Dopo le proteste dei residenti di Viabba per l'incuria in cui si trova la striscia di terra fra la ferrovia e la strada, anche gli abitanti della Querce chiedono alle ferrovie dello Stato di programmare la manutenzione ordinaria dei terreni adiacenti ai binari. Ci può essere pericolo di incendi, comunque ci sono animali, zanzare, topi anche, si sono visti. Davanti all'abitazione la porta proprio su questo bel vedere. Vengono una volta l'anno se vengono a tagliare l'erba. Noi si interpella la ferrovia e non rispondono, non rispondono e non rispondono. Il problema è che è diventato di ordine anche politico con la question time fatta dal capogruppo del PD Marco Sapia. La situazione ormai è diventata insostenibile in tutto il comune di Prato, quindi la Querce, la Macine, la Pietà, fino al confine con Vaiano. Qui la manutenzione non viene fatta, è stata fatta soltanto in alcuni punti. Penso che si debba andare avanti e coinvolgere direttamente anche gli altri comuni limitrofi che soffrono lo stesso problema. Interpellare anche la regione toscana perché qui bisogna fare un'azione comune. L'RFI deve rispondere della mancata manutenzione e quindi dobbiamo aprire un tavolo tra i comuni e la regione per risolvere questo problema che crea disagi sia di ordine sanitario ma anche di incomunità pubblica, specialmente d'estate, quando la vegetazione inizia a seccare.